Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Capiamo cosa sta succedendo alla Venere di Botticelli che a quanto pare lascia il quadro custodito alla Galleria degli Uffizi di Firenze, dove è presente, e prende vita fra le varie polemiche che ci sono, che sono state scaturite, che continuano, per diventare ambasciatrice della bellezza italiana nel mondo. Questo è stato deciso, ha anche un nome, si chiama Italia Open to Meraviglia, ed è la campagna ideata dal Ministero del Turismo insieme ad Enit, ovvero l'Agenzia Nazionale del Turismo, per poter promuovere le italiche bellezze. Abbiamo delle bellezze, cerchiamo di conservarcele. Campagna ideata dalla prestigiosa agenzia pubblicitaria Armando Testa. Come testimonial di un progetto tanto ambizioso è stata scelta quella che fin dal Rinascimento viene considerata la massima rappresentante del canone di bellezza femminile, ovvero la dea dell'amore ritratta nel dipinto Nascita di Venere. Eccomi qua, salve a tutti. Probabilmente di vista già mi conoscete. Mi chiamo Venere. Ho 30 anni o che magari qualcosina di più per la verità e sono una virtual influencer. Questa la presentazione nel video promozionale. Nella campagna ministeriale Venere, non più desnuda ma abbigliata in abiti moderni e trendy, va in bicicletta, mangia la pizza, va in barca, passeggia per vie e piazze, si scatta selfie come una qualunque ragazza moderna e ci mette la faccia per sponsorizzare le eccellenze nazionali presso centri cittadini, borghi, aeroporti, stazioni, talk show, fiere e saloni. La campagna pubblicitaria, che sarebbe costata 9 milioni di euro, serve anche per il rilancio del sito Italia.it. La campagna non ha mancato di suscitato interesse, ma anche perplessità, ilarità e critiche e vibranti. L'iniziativa ha anche dato vita a una miriade di meme che in poco tempo hanno colonizzato i principali social network. Qualcuno fa anche notare che il claim del progetto Open to Meraviglia contraddice proprio il boicottaggio degli inglesismi proposto dal partito di maggioranza con primo firmatario il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Le prime critiche vengono dal governo stesso e proprio dal dicastero della cultura. Il sottosegretario Vittorio Sgarbi Boccia sia la sostanza che la forma. Open to Meraviglia, si domanda a Sgarbi che roba è, che lingua è, e ancora, nel momento in cui parliamo tre ministri presentano la venere di Botticelli vestita da ciclista, con la scritta Open to Meraviglia, un paradosso. Ma la pubblicità all'Italia la fanno le opere d'arte, senza bisogno di travestirle. Il sottosegretario dice la sua anche sulla mise della testimonial, giacché la venere è nuda sarebbe stato meglio vederla così, senza bisogno di travestirla in quel modo, è una roba da Ferragni. E proprio Chiara Ferragni potrebbe, forse, essere alla base delle ispirazioni di Ennit e del Ministero del Turismo. Si ricordano infatti i selfie scattati dalla moglie di Fedez nel 2020 all'interno degli uffizi di Firenze. Uno in particolare la vedeva posare in shorts, top e camicetta di fronte alla nascita di Venere. Dunque da Chiara Ferragni a Simonetta Vespucci. Dalla bionda influencer in carne e ossa alla bionda virtual influencer che, secondo parte della critica, potrebbe avere dato il volto alla venere di Botticelli. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.